Il via libera della conferenza dei servizi per la pista dell'aeroporto di Peretola è sicuramente un passo avanti. Speriamo che possa essere terminata agli inizi del 2021 e il nuovo termina agli inizi del 2023. Questo sarebbe veramente una grande mano allo sviluppo della città di Firenze, così Luigi Salvadori, presidente di Confindustria Firenze, a margine di una iniziativa. Sul via libera della conferenza dei servizi è intervenuta anche Lucia Leotti, azionista unica e componente del CDA di Menarini. Parlando a margine di un convegno, l'ha definita una bellissima notizia, che abbiamo celebrato come tutti gli imprenditori della Toscana. Leonardo Basilichi, presidente di Camera di Commercio di Firenze, ha ribadito che lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze è necessario, altrimenti, ha detto, siamo tagliati fuori dal mondo. Per il sindaco Nardella può essere verosimile che i lavori possano cominciare nel 2019, subito dopo l'estate. Così commentando le parole di Salvadori, che spera di avere la nuova pista all'inizio del 2021. Intanto però, proprio oggi, arriva la doccia fredda dal Ministero delle Infrastrutture, che boccia l'attribuzione dei 100 milioni assegnati dai governi precedenti ad ENAC per lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze. È opportuno che il prossimo consiglio di amministrazione dell'ENT riveda la destinazione di tali risorse, tenendo conto del polo unico Firenze-Pisa e della natura di City Airport che Firenze deve coltivare e sviluppare. A dirlo è Michele Dell'Orco, sottosegretario alle Infrastrutture, rispondendo a una interrogazione presentata da Gabriele Toccafondi, deputato di Civica Popolare, iscritto al gruppo misto.